dove vai alberto quella lì è la chiesa di San Pietro Caveoso a buonanime di Per Paolo Pasolini quando qui ci girò il Vangelo secondo Matteo nel 61 il Golgotha lo fece qui la gravina di Matera ricca di grotte naturali abitate dall'uomo fin dal paleolitico inferiore medio senza soluzione di continuità unico sito al mondo che presenta questa caratteristica dalla grotta alla città rupestre di Matera oggi 16 di settembre 2023 tanti saluti dalla California o da Milano dalla California dalla California ciao California alla città rupestre di Matera come stai andando dai Tina dai ma che casca alla città rupestre di Matera 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 alla città rupestre di Matera